Sono innamorata di questo restyling e voi, dunque se possiamo descriverlo, c'è tantissima roba qui dentro, perché andiamo a reinventare l'abito che abbiamo visto in precedenza, che era realizzato con questo tessuto qui. Quindi bellissimo, bellissimo, e l'abbiamo reinterpretato proprio perché in Cleofifinati gli uomini Cleofifinati sono tutti uomini assolutamente creativi ed è molto molto importante comprendere che i nostri abiti devono essere reinterpretati e reinventati, perché sono bellissimi e non possiamo abbandonarli nell'armadio, assolutamente no. E reinventandoli in chiave New Dandy Glamour, ecco il capolavoro che ne esce. Sogar die ipnotische Fantasie, die wir in den letzten Videos schon erklärt haben, werden wir in diesem Video etwas mehr sehen. Wie wichtig ist, euer Anzug neu zu reinterpretieren? Heute zeigen wir euch. If you didn't see the previous video, I recommend you to go and see what happened. Actually we had this nice Cleofifinati luxury suit, we actually called it, what was the name, do you remember? Hipnotic Fantasy, and this is how we decided to reuse just some parts of the suit. So I actually kept on my pants, the trousers, the shirt, and something else. And so remember, when you go in for a Cleofifinati suit, remember not to leave them in your wardrobe, but you have to reuse them, so get some style and... Mille modi. Yeah. Allora, del look precedente abbiamo mantenuto il pantalone, appunto con questo disegno di Vichy in ocra, l'abbiamo mantenuto la camicia che, come sempre, viene personalizzata nelle pistagne, cioè nel collo e all'interno dei polsi, abbiamo mantenuto le bretelle, poi abbiamo invece reinterpretato tutto il resto con questa giacca smoking sempre a firma Cleofifinati in raso di seta stretch, fantastica direi, veramente fantastica. Vom der hypnotische Luxury Fantasy Anzug haben wir die Hose behalten, haben wir das Hemd, das zu schone war, und wir haben, ja natürlich auch die Hosenträger nicht verzichten, und wir haben mit einer Sakko vom Smokin in Atlas Bindu mit ein bisschen stretch drin. Es ist ein wow Effekt. All right, so from the previous suit I had on, we kept everything, and what is new is actually the jacket. This is a jacket from Smokin in one, Smokin in Japan. Bellissimo. What would I say? What else? As George Cooley says, what else? Der Daku spricht allein. E poi abbiamo perfezionato il look con una scarpa gioiello. Perché? Perché le scarpe, Cleofifinati, sono tutte scarpe gioiello. Andiamo a guardarla, ragazzi. The shoes have for us a surprise, a gift. Girati, girati! Wow! Look fantastico! Diciamo che anche Gerry si piace tanto con questo look, eh? Ammettilo! 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 E quindi tutti voi liberate la vostra creatività. Non fermate la vostra mente perché è importantissimo coltivare la creatività. Molto, molto importante, vero ragazzi? Perché la creatività è ciò che noi siamo e è importante anche di scrivere. Be creative, choose Cleofifinati! Obviamente! Absolutamente! Al prossimo video dunque! Scriveteci, seguiteci, state con noi! Questo è importante! Nel prossimo video, ci vediamo a te! See you next time! Ciao! Bye!